buongiorno buongiorno a tutti anche chi ci segue dopo soprattutto chi sta facendo anche la maratona che siamo all'ultimo giorno della maratona di perdita peso detox prima di natale allora oggi ci dedichiamo gambe ci basta il tappetino faremo un lavoro diciamo così in energia per lavorare gambe e glutei e sarà un po più dinamico dai intanto iniziamo a scaldarci vediamo su con le ginocchia il mio consiglio è sempre arrivare all'allenamento con acqua in corpo quindi aver già bevuto almeno 250 ml di acqua glutei calciata e poi se ce n'è la possibilità beviamo anche durante l'allenamento andiamo in spinta in avanti facciamo qualche passo su all'altra oggi non ci saranno salti quindi cerchiamo di mantenere un pochino dinamico il movimento viviamo su bene skip alto rifacciamo circuito andiamo in calciate glutei scaldiamo bene cambiamo esercizio andiamo in divaricata scendiamo tocchiamo rotazione del busto ok rotazione di caviglie facciamo discesa laterale sempre un movimento del busto scaldiamo andiamo in spinta in avanti della gamba e siamo caldi mezzo squat paralleli le gambe un pochino più ampie rispetto alle spalle ok stesso lato scendo piego e ritorno porto il braccio sopra la testa scendo e ritorno porto il braccio sopra la testa scendo e ritorno ok ultima facciamo un cambio lato dall'altra quindi scendo e ritorno piego piego ok senza braccio andiamo a fare uno spostamento laterale piego ritorno piego ritorno spostamento laterale maricando bene interno coscia che lavora e andiamo dall'altra piego ritorno piego ritorno ok direi che di qua sia belli caldi andiamo su le braccia dai attenzione avanti e poi cambio, attenzione indietro ok, spingo indietro, sforbucciate davanti ok, su, spingo, scendo alterno tutte e due ok, divarico, busto, scendo, vengo su scendo, vengo su ok, andiamo ancora in spinta in alto della gambe, dai, iniziamo a curare bene pronti per un super allenamento intenso gambe ok, stop, breve recupero, abbiamo tempo a bere e poi partiamo allora, andiamo a fare un bello squat con affondo indietro ok, quindi squat affondo squat affondo dall'altro ok, quindi Recuperiamo un attimo, sciogliamo e andiamo in affondo, continuiamo con gli affondi, indietro, sempre la stessa gamba, ok? Quindi affondo, ritorno. L'ultimo e facciamo un cambio dall'altra, cambio avanti, sfondo, ritorno. Bene, allineiamo il ginocchio con la caviglia, davanti in modo da far superare il ginocchio, il piede, scusatemi, il ginocchio. Ok, facciamo un cambio e andiamo a fare il termato, sfondo alternario. E stop, recuperiamo, sciogliete, continuiamo a bere. Ok, adesso facciamo uno squat e portiamo sul ginocchio, alternandolo, ok? Quindi squat, su, squat, dall'altra squat, su, squat, su. Facciamo ancora una volta da un lato e una volta da un lato, ok? Sciogliono, andiamo a fare lo slancio della gamba, in avanti, alternando, come prima. Qualche passo, e su, su, sciogliono, su, sciogliono, ok? Ok, andiamo, slancio ancora, solo una gamba, e su, cambio gamba. Nella lato, sul, 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 ok? Nuovo, slancio, slancio, mio gamba, eh? Slancio, cambio di là, slancio, 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 e stop. Recupero, sciogliono, sciogliono, recuperiamo, fiato, andiamo in squat con doppio calcio in avanti. Quindi, quindi, squat, ta, ta, squat, calcio, calcio. Alto, 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 alto. Ops, dice l'editoria di da davanti. Scusate, ancora un po' che uccido il gatto. Ok, sciogliono, andiamo di scelta laterale come riscaldamento, un po' di grinta, sempre stesso lato, scendo, su. Senza pausa, passiamo poi subito dall'altro lato, e via. Senza pausa, andiamo a fare una discenza laterale, apriamo bene, piego, busto, rotazione. Ok, e sto. Recuperiamo. Pronti per ripartire con affondo alternato indietro, conosciamo bene. Allora, partiamo, vediamo ad affondare. Un po' di ritmo, sempre bene l'esercizio. Ok, recupero. breve, breve, e facciamo fondo da un lato con un'alzata gamba. Quindi scendo, ritorno, alzo. Scendo, ritorno, alzata. Scendo, ritorno, alzata. Ok, passo dall'altra, senza pausa, scendo, ritorno, alzo. Mamma mia, scendo, scusate, voi continuate. Ritorno, alzo. Scendo, ritorno, alzo. Dovresti andare un po' più in lato, io schiaccio il gatto, voi continuate. Ok. Andiamo adesso giù e faccio apertura e chiusura. Però rimaniamo giù. Ok, salgo, sciolgo. Il gatto sembra non aver voglia di andare a riposare oggi. Ok, scendiamo bene il squat. Un bello squat profondo. La richiama e scendiamo bene giù. Salgo. Scendo bene giù, ragazzi. Giù, 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 sedermi. Sì. 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 Continue. Vieni, venti secondi. Ci mettiamo in posizione squat e diamo dei calci ai glutei, quindi giù, rimaniamo in posizione. Poi ci mettiamo in posizione pulsata e via, pulsiamo, squat, molleggiamo. 3, 2, 1, stop, recuperiamo. Beviamo, abbiamo un bel recupero, quindi possiamo bere. Ok, passaggio adesso basso di affondo laterale. Quindi divarchiamo e facciamo un passaggio basso. Vengo bene, interno cosce, adduttori, adduttori che lavorano, interno ed esterno cosce. Mantengo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e recupero. Molto bene, come scaldamento andiamo a spingere indietro, aggiungiamo solo l'affondo. Non vengo un po' più avanti se non ci sto. Quindi scendo, torno, affondo, torno, scendo, torno, stessa gamba, affondo, scendo e affondo, su, scendo e affondo, su. Dall'altro lato, ok, spingo e affondo e spingo, torno, cambio gamba, affondo, spingo, torno e affondo. Molto bene, divarchiamo, di nuovo apertura e tocco la viglia alternante. Stop, recupero. Allora squat e affondo indietro, ok? Quindi scuota, affondo, scuota, cambio gamba, scuota, affondo, scuota, affondo dall'altra, scuota, giù, scuota, giù. Facciamo l'ultimo. Ok, sciolgo. Molto bene, diamo squat, scuota, scuota in fondo, una gamba sola, via. Ritorno. Stessa gamba. Stessa gamba. Ritorno. Ritorno. E poi mettiamo un affondo alternato come prima, quindi alterno, ritorno. ultima, ok, sciolgo e recupero. Bevo. Bevo. L'ultimo sorso. Il mio termogenico brucia grassi. Squat e ginocchio al petto. Squat. Bene su. Il ginocchio. Bene su. 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 Siamo l'ultimo, ok, bene, andiamo a sciogliere con slancio della gamba in avanti, via, alternata, facciamo adesso uno slancio solo di una gamba, via, ok, andiamo a far cambio di là, ok, sciolgo, ragazze, sciolgo e recupero, ok, tanto prendo fiato e andiamo a fare come prima uno squat e una calciata avanti, doppia, ok, quindi bene lo squat, calcio, calcio, giù, calcio, calcio, calcio. Ok, sciolgo, bravissimo, recupero, discesa laterale, stesso lato, andiamo allora all'interno coscia, esterno coscia, quindi spingo, ritorno, spingo, ritorno. Facciamo un solito cambio dall'altra. Senza pausa andiamo a fare alternato, piego, faccio anche la attenzione del busto, tocco carino. e stop, bello recupero, brava ragazze, sciolgo, infatti. bello lavoro, gambe, anche cardio, andiamo a fare un po' di strecci, quindi divarichiamo, non troppo, leggermente più delle spalle e scendiamo giù, piano, andiamo a toccare terra, siamo caldi, quindi dovreste riuscire a toccare terra con le mani. Mi inspiro, butto fuori, mi inspiro, e piano piano salgo, butto fuori, e ridiscendo da un lato e resto. Continuo a ispirare, buttare fuori, piano piano vengo su, butto fuori, poi scendo dall'altra. Spiro, piano piano, torno centrale, vengo su piano, butto fuori, andiamo a lavorare sul busto. Gatto, mobilizzazione della colonna. Bene su, andiamo a lavorare sul quadricipite, teniamo l'equilibrio. Ispiro, bene il tallone vicino al gluteo, cambio dall'altro lato, equilibrio. Ispiro, tutto fuori, scendo ancora bene a terra, divarico bene le gambe e le ginocchia bloccate. Più giù che posso, bene le ginocchia bloccate. Ok, piano piano, mi sposto avanti e muovo. Piego le ginocchia. Ok, piano piano, ispiro, ritorno, resto ancora giù. Allungo, allungo bene anche la schiena, polpaccio e salgo. Ascendo, rispiro. Scendo a terra, tiriamo bene il gluteo, passo dietro con una gamma e bene. Il ginocchio lo tiro, ruoto il busto. Andiamo dall'altra, ruotazione, scusate ho sbagliato gamba, e tiro. In quadrupedia, facciamo ancora un po' di gatto per la schiena. In quadrupedia, parte bassa, non va al sacrale. Scendo giù, allungo. Scendo giù, allungo. Scendo giù, allungo. dietro. Scendo in appoggio laterale, allungo ancora dietro. scendo giù, allungo ancora dietro, allungo ancora dietro. Scendo giù, allungo ancora dietro. Vengo su, allungo ancora dietro. Ok salgo, molto bene, piano piano ritorno, ok bravissime ci abbiamo fatta, anche oggi abbiamo terminato, allenamento gambe, toniche, glutei, ci vediamo domani, che dite?